Gentili telespettatori, buona giornata. Siamo nella trasmissione 8 e mezzo sulla 7, trasmissione della giornalista politica Lillilli Gruber. C'è Alessandro Di Battista, ospite. Indovinate qual è il tema principale? Mi avete letto nel pensiero? Inizia con la S e finisce con la I. Salvini. E anche inizia con la M e finisce con la I. Meloni. Ma dai, ma veramente? Ma non l'avremmo mai potuta immaginare una cosa del genere. Il benessere di una democrazia dipende anche dall'opposizione e oggi non c'è. Per il Dib, il Che Guevara di Roma Nord, l'opposizione non c'è. Insomma, come poteva dire che c'è l'opposizione di Giorgia Meloni? Diventerebbe automaticamente un meloniano nella sua, nelle sue teorie, no? Quindi il Dib va ospite a 8 e mezzo sulla 7 da Lillilli Gruber. Dice, beh, c'è Giorgia Meloni. Come dire, l'opposizione non c'è. Dice, beh, c'è Giorgia Meloni. Come dire, nessuno, no? La Meloni dice con sfrontatezza e molto scaltra, a differenza di quel Matteo Salvini che lo definisce un po' un bambinone secondo Dibattista, un bambinone mentre lei, molto furba, se lo impacchetta su. Questa è la teoria di Dibattista da Lillilli Gruber. Ecco, dice, la Meloni fa un'opposizione elettorale ma non la vedi mai attaccare Draghi e prendere posizioni nette come faccio io. Caro Dibattista, fare opposizioni non vuol dire dirne di tutti i colori a Draghi. Ecco, fare opposizione la puoi fare anche in maniera educata, senza dire paroloni, con termini corretti, istituzionali e utilizzando tutti i mezzi a disposizione di un'opposizione. Ordini del giorno, mozioni di sfiducia, interventi in Parlamento, in Senato per dire la propria. Addirittura Giorgia Meloni adesso avrà delle telefonate costanti con Draghi perché Draghi comunque sia ha un enorme rispetto per Giorgia Meloni e stima anche Matteo Salvini. Per quanto vi possa sembrare stima anche Matteo Salvini. Sono gli unici due nel governo, Salvini e Meloni, che influiscono nelle decisioni di Draghi, che lo chiamano, che gli dicono facciamo questo, facciamo quello. Gli altri partiti, compreso il tuo partito o ex partito, caro Dibba, non fanno altro che o stare zitti e non dire niente o criticare quello che dice Salvini e Meloni. Insomma, mi sembra un po' riduttivo come politica del centro-sinistra quella di o non dire niente o di criticare quello che dicono gli altri. Insomma, voi direte ma no, Letta ne dice di cose. Eh sì, ne dice di cose. Siamo arrivati credo alla diciottesima priorità di Enrico Letta. Se volete cercarli nel canale cercate la prima priorità di Letta, la seconda, la terza. Poi ogni video c'è il riassunto delle puntate precedenti. Qualcuno di voi si sbellica dalle risate ma realmente c'è anche poco da ridere. Ecco, insomma, l'ex grillino, oggi considerato molto vicino a Davide Casaleggio, è ancora impredicato di diventare il leader di un nuovo movimento, arriva nei salotti della Gruber. Ma cosa c'è che non le piace nel governo di Mario Draghi? Dice la conduttrice. È così. Lui dice la campagna vaccinale, dati alla mano, era partito meglio con il governo Giuseppe Conte. Ma che stai a di? Con arcuri e gli stand petalosi? Ma che dici, c'è che vara di Roma Nord? Ma che stai dicendo? Draghi ha messo il capo della logistica militare italiana, il generale degli Alpini, figliuolo che è esperto di logistica. Se non ti piace, ha anche due lauree il generale. Non è uno che diceva, perché all'inizio dicevano uno di Amazon che spedisce i pacchi e ne sa più del generale. Ma cosa dite? Ma leggetevi curriculum delle persone. Il generale di corpo d'armata, figliuolo, arrivato ai vertici delle forze armate, è un esperto di logistica stimato in tutto il mondo nelle missioni internazionali dell'Italia. La sua esperienza l'ha messa al servizio di questo e ha predisposto una struttura logistica per vaccinare da 500.000 a un milione di persone al giorno. Ovviamente mancavano i vaccini ed è colpa del generale. Ovviamente no. Ma lui, lui, il Che Guevara di Roma Nord, assieme a Travaglio, quello che ha dei travagli, ecco, loro dicono che Conte, Arcuri, cioè meglio di loro a quest'ora avremmo vaccinato non solo l'Italia ma anche la Svizzera, la Francia, sarebbero venuti da tutto il mondo perché noi vacciniamo così milioni di persone al giorno. Caro al mio Dibba, eh, devi crescere ancora, eh. Insomma, perché le persone le sanno le cose. Se tu vai da Lily Gruber a raccontargli queste cose, a chi le racconti? A chi le racconti? A chi? Chi è che ti crede? Ma neanche a te stesso puoi credere. Vabbè, ma lui dice, dati alla mano, era partito meglio il Giuseppi. E sul recovery plan, che è stata una conquista del governo Conte, una conquista del governo Conte il recovery plan. Ricordiamo a Dibattista che quando Conte è andato in Europa, si sono riuniti, senza Conte si sono detti, diamogli più soldi, perché se non gli diamo i soldi a questi qua, ci tirano giù tutta l'Europa, ci fanno fallire, questi stanno per fallire. Se non gli diamo i soldi di più, e così poi dopo che si sono riuniti che Conte pensava che riducessero i soldi destinati all'Italia, magicamente sono diventati di più. E lui è tornato con l'assegno, tipo quelle trasmissioni che vinci e ti fanno l'assegno grande, è tornato con applausi, nel condottiero, passato sotto l'arco di trionfo. In realtà, in realtà vi dico, in Europa hanno detto diamogli più soldi, togliamoli agli altri, diamogli agli italiani, perché questi si falliscono, ci fanno fallire tutta l'Europa. E così è stato. Ma il Dib, che è lo stesso che elogia la Raggi, grande sindaco solo perché è una sua amica di famiglia, dice che il recovery plan è una conquista del governo Conte. C'è da aprire le braccia, in segno di resa, quando si sentono queste cose. Dice, io sono molto preoccupato della gestione dei denari, perché in assenza di una vera e propria legge sui conflitti di interesse, in particolare tra politica e finanza, perché ritengo che gli appetiti di una serie di poteri che sono gli stessi che hanno spinto la classe politica ad avvallare la nascita del governo Draghi, siano elevati. Ma avete capito cosa ha detto? Draghi è stato messo lì da interessi economici. Insomma, io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata.